La Voce 24 News La Voce 24 News La Voce 24 News La Voce 24 News Molto noto anche nel Vallo di Diano, nel Cilento e nel Golfo di Policastro, nell'agosto 2011 il Consiglio Comunale di Vibonati, Paese Natale dei Genitori, gli ha concesso all'unanimità la cittadinanza onoraria quale ha testato di gratitudine per l'opera di promozione culturale svolta, in particolare, con l'annuale premio letterario, Torre Petrosa. Scrittore, giornalista ed opinionista. Buccino, Salerno. Chiude il Museo Archeologico Nazionale di Volce a causa della mancata manutenzione comunale. Buccino, un pittoresco borgo con poco meno di 5.000 abitanti, ma con una storia dove trovano particolarmente rilievo l'aspetto culturale, archeologico, gastronomico e naturalistico. Ultimamente tra la Proloco e il Sindaco Freda, non vi è più feeling. Va ricordato che la locale Proloco ha realizzato per vari decenni eventi che hanno portato migliaia di visitatori e turisti, tra cui ricordiamo il Volcei Wine Jets 13esima edizione e le istorie Volcei Anae giunta alla 44esima edizione, oltre alla cura dell'apertura del Museo Nazionale di Volcei. Purtroppo il Sindaco Freda, si è personalmente opposto non concedendo alla Proloco gli spazi pubblici necessari alla realizzazione delle storiche iniziative. Difatti il primo cittadino, inviando una nota ai dirigenti comunali, vieta a quest'ultimi di rilasciare qualsiasi autorizzazione alla Proloco. I vertici della Proloco comunicano di aver impugnato tale decisione presso il Tar, il quale ne ha fissato la Camera di Udienza per il 12 settembre 2023. 3. Una cosa è certa, il Museo Archeologico Nazionale di Volcei chiude per mancata manutenzione comunale. Su www.lavocedelmeridione.com l'articolo completo. Sapri, Salerno. Il 21 e 22 agosto il chiosco Crivella ripropone la festa d'estate con l'appuntamento Crivella e Friends. La gelateria Crivella, sul lungomare della città della Spigolatrice, è meta per tutti gli amanti del gelato fatto ad arte, punto di incontro e ritrovo per gli amanti del buon gelato che sono disposti a macinare chilometri per assaggiare i nuovi gusti proposti dal maestro gelatiere, Enzo. Enzo con il suo animo artistico è sempre alla ricerca del meglio, da oltre 40 anni non si ferma nella ricerca degli ingredienti locali. Anche quest'anno il Leone, soprannominato così per la sua folta capigliatura, festeggerà l'estate, con l'ormai consolidato appuntamento Crivella e Friends. Ospiti, due amici del maestro gelatiere, due maestri pasticceri, il 21 agosto alle ore 22, con Gerardo Di Dato, di Angri e il 22 agosto sempre alle ore 22 con Sabatino Sirica, di San Giorgio a Cremano. Agropoli, Salerno. Al Castello di Agropoli, serata dedicata al Grande Totò con Morgese e del Prete. Appuntamento. Questa sera, domenica 20 agosto alle ore 20 e 30 presso la Sala dei Francesi del Castello. Serata evento dedicata al principe della risata Antonio De Curtis, in Arte Totò. L'occasione è data dalla presentazione dell'ultimo libro del pittore Antonio Morgese, artista napoletano, che nella sua lunga carriera ha omaggiato più volte con le sue opere il Grande Totò tanto da essere considerato il suo principale disegnatore. Vallo di Diano, Salerno. L'italodisco dei The Colors per la prima volta nel Vallo, il 22 agosto concerto gratuito a Sassano. L'estate non è ancora finita, ma Italodisco dei The Colors è stato incoronato il Tormentone 2023. Un successo straordinario che ha fatto della band, i Re dell'Estate e quindi tra i gruppi più ricercati sui palchi della penisola. C'è grandissima attesa a Varco Notar Ercole di Sassano, per la band capitanata da Stasch. Il concerto si inserisce nei festeggiamenti civili del Cuore Immacolato di Maria, un evento organizzato dal Comitato Feste del Santuario Mariano. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato. Calabria News. Calabria. MIT, investimenti da 75 miliardi per Calabria e Sicilia. Quasi 28 miliardi di euro pianificati per strade e autostrade in Sicilia e in Calabria. 47 miliardi in totale per le reti ferroviarie, investimenti senza precedenti, che il MIT guidato dal Vice Premier e Ministro Matteo Salvini ha in programma per rilanciare le infrastrutture al sud, anche in vista della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Così una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Salvini, è determinato a utilizzare tutte le risorse europee, pur di recuperare decenni di immobilismo assicura il MIT. Basilicata News. Lucania. Potenza. Antonio e Noa, padre e figlio di Vietri di Potenza attraversano a nuoto lo stretto di Messina. Impresa riuscita per Antonio e Noa, di Vietri di Potenza, ma vivono in Lussemburgo, che hanno portato a termine un'avventura indimenticabile, riuscendo nella traversata a nuoto dello stretto di Messina, lo scorso 9 agosto. In occasione delle vacanze, hanno aderito all'iniziativa dell'Associazione Papà Separati di Milano, al fine di raccogliere fondi. Antonio e Noa hanno fatto un'avventura straordinaria insieme ad altri 24 nuotatori. I nostri cuori hanno commentato a completamento dell'impresa traboccano di gratitudine a tutti coloro che generosamente hanno fatto donazioni all'Associazione. Nuotare attraverso lo stretto alle 8 del mattino in acque cristalline e ammirare l'abisso blu dei suoi 150 metri è fantastico. Una iniziativa benefica molto seguita che ha portato alla raccolta di importanti fondi per le persone che necessitano di aiuto. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale youtube, resta sempre informato.